L'identità secondo il design sistemico Ciascuno di noi ha una propria identità sociale e culturale, che è strettamente legata al territorio in cui vive. Eppure capita spesso che valori e bisogni specifici siano uniformati e omologati. Quando facciamo un acquisto, se ci rivolgiamo alla grande distribuzione, ci troviamo davanti a prodotti tutti uguali, di cui non conosciamo la provenienza né la qualità. Li acquistiamo lontano dai paesi di origine e per arrivare fino a noi percorrono molti chilometri. Questo è dispendioso e produce inquinamento. Così facendo, non favoriamo l'economia locale né valorizziamo le risorse del nostro territorio. Inoltre ci portiamo a caso un'enorme quantità di confezioni e imballaggi. E così più della metà di quello che abbiamo comprato e pagato finisce nella spazzatura. Come si può trovare un'alternativa intelligente a questi problemi? Il design sistemico agisce sulla consapevolezza delle nostre scelte. Per esempio, se decidiamo di acquistare un prodotto locale, significa scegliere un prodotto di qualità a chilometri zero, di cui conosciamo la provenienza e il produttore, favorendo così l'economia locale. Un'altra scelta consapevole è quella di adoperare contenitori riutilizzabili e scegliere di volta in volta la quantità di prodotto di cui abbiamo realmente bisogno. Le nostre scelte consapevoli, come ad esempio la mobilità sostenibile, le manifestiamo attraverso dei comportamenti che esprimono i nostri valori. In questo modo comunichiamo questi valori agli altri e incentiviamo atteggiamenti sostenibili che creano benessere. Condividendo con gli altri le nostre scelte, idee e valori, creiamo una coscienza condivisa, che trova espressione nella comunità locale a cui apparteniamo. Nel mondo ogni comunità ha i propri valori sociali e culturali che esprimono l'identità di quel territorio. Condividendo globalmente questi valori con altre comunità, la cultura locale si arricchisce e diventa una cultura glocale. Il design sistemico valorizza l'identità locale rafforzando l'appartenenza sociale e culturale degli individui. In questo modo favorisce un'economia basata sul dialogo tra diverse identità locali e incentiva la crescita e lo sviluppo a livello globale. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!